Poi certo se c'è una coppia ventennale, sicuramente se non si ama è un po' più pesante, no? Dopo tutte le lettere che ci siamo scritti, ti va se ci vediamo? Un amore, ci si ritrova molto nei vostri personaggi, io personalmente, sia molto in Anna tra l'altro. Vi chiedo, quanto è stato liberatorio affrontare dei personaggi irrisolti, fondamentalmente, sfumati, imperfetti, che hanno anche la possibilità di sbagliare in totale libertà o fare la cosa giusta in questo caso? Ma liberatorio? In realtà no, è stato bello perché senti che sono personaggi, senti che quelle cose che capitano a quei personaggi capitano a tutti, quindi più che liberatorio, quello che ho cercato di fare è sentire quella cosa che è un po' comune a tutti, no? Degli innamoramento, del fatto che capita che ti innamori quando hai già una relazione, e quindi questo comunque è una cosa che è capitata a tutti, almeno una volta nella vita, se non di più. Ma sì, infatti, guarda, parlare giustamente di fragilità e di amore imperfetto, è proprio quello che secondo me poi lo rende a suo modo perfetto, nel senso che questo amore, quando uno dice è un amore strano, poi ci pensi e dice, vabbè, ma quale amore non lo è? Quale amore non ha le sue proprie regole, che sono diverse da quelle di qualunque altro amore? Quando si dice fra moglie e marito non mettere il dito, ma in generale nei rapporti d'amore non si può giudicare, perché ha a che fare troppo con qualcosa di intimo e di antico che c'è dentro di noi. Quindi, secondo me, abbiamo semplicemente raccontato in modo semplice una storia d'amore che in qualche modo riguarda tutti nelle sue imperfezioni. Un tema è che oggi abbiamo un po' tutto sotto mano, no? I telefoni, qui si parla di lettere, di cartoline, di ricordi soprattutto. Ecco, oggi che abbiamo tutto sotto mano abbiamo smesso di pensare alle cose, davvero? Non so che ne pensate. Ma già il fatto di prendere una carta da lettere, di sedersi a tavolino, di scrivere una lettera, quindi di averla anche pensata, prendere, alzarti, andarla a imbucare, comunque già c'è un rito, no? Abbiamo perso un po' la ritualità, sicuramente, a parte anche la calligrafia, penso. E' vero anche il tempo per pensare, per riflettere, cioè quella famosa noia della quale si dice tanto, lasciamo che i bambini si annoino, ci si annoiava di più. Beh, però la noia, al di là di definirla solo noia, ma c'era tanto pensiero, c'erano tante avventure, c'era tanta... Non lo so, io credo che ancora oggi, forse i momenti nei quali riesco a pensare meglio è quando vado a correre. Proprio perché non ho quella roba lì che in realtà ti distrae dai tuoi pensieri, ti occupa lo spazio ma per distrarti. E distrae anche il concetto di amore? Si è persa la spontaneità verso l'amore? Ma no, se sei innamorato c'è spontaneità, sei molto soggettivo, poi certo se c'è una coppia ventennale sicuramente se non si ama è un po' più pesante, no? Ruba però tempo, cioè è vero che anche secondo me nell'amore si... quando sei innamorato vai eccetera, però è vero che ruba tempo, ruba attenzione, ruba intimità, ruba intimità alle volte, questo essere connessi con qualcos'altro nel momento in cui magari sei con la persona che ami. Sì. Grazie, grazie mille. A te, grazie.